Ciao, benvenuti a tutti, oggi parleremo dei Bage. I Bage sono distintivi virtuali che possono essere rilasciati da enti pubblici, privati, siti, associazioni e mostrano l'abilità acquisita dai vari utenti. I Bage sono formati da una parte grafica, Bage, Image, PNG, a queste sono associati delle informazioni o metadati, Bage Name, Descrizioni, Criteri, Issue, Evidence, Data, Issued, Standard e Tag. Utilizzando questa estensione per Chrome possiamo entrare nel dettaglio e far vedere effettivamente cosa noi non riusciamo a visualizzare. Vediamo questo Bage, la parte grafica, e associata a questa parte grafica vi è un formato JSON. Questo formato JSON corrisponde proprio praticamente a tutti i metadati, sono i metadati, quindi sono le informazioni utili a verificare l'autenticità del nostro Bage. Torniamo un passo indietro e possiamo dire che una volta che noi otteniamo i Bage possiamo collezionarli. Li collezioniamo in dei zainetti virtuali. Il zainetto virtuale più famoso al mondo è quello di Mozilla, backpack.openpage.org Apriamo parentesi, non faremo vedere come creeremo la nostra collezione all'interno dei zainetti virtuali di Mozilla perché già esiste un video. fatto da noi. Chiusa parentesi. Allora, una volta che entrate e create la vostra collezione potete renderla pubblica, quindi potete condividere i vostri Bage su Facebook, Google+, Twitter e LinkedIn. Quest'ultimo è importante perché è un social legato al lavoro, quindi mostra le abilità a futuri datori di lavoro. Allora, gli OpenBage sono dei distintivi, quindi sono delle competenze acquisite. Questo sistema è utilizzato da una molteplicità di persone e di utenti, però noi li possiamo classificare in tegande tipologie. Il primo è l'issure, coloro che creano, sono gli enti che praticamente creano il Bage e lo rilasciano. Poi abbiamo gli utenti veri e propri, cioè nel senso coloro che effettivamente vogliono il Bage, che possono essere privati. studenti, insomma, chiunque voglia guadagnare il Bage, superando dei test, dei quiz oppure partecipando a dei eventi. E poi vi sono coloro che visualizzano i Bage ottenuti, quindi le competenze acquisite del loro dipendente o dei possibili dipendenti. Quindi solitamente sono, la testa fascia, solitamente sono dottori di lavoro o aziende. Questo più o meno è tutto ciò che volevamo far vedere dei Bage, almeno in questa guida. Quindi vi salutiamo, buona serata e arrivederci.